come avrebbe detto brunello robertetti famoso personaggio di guzzanti dove stiamo intanto su questa terra io ci provo ad aiutarvi a capire dove stiamo intanto con gli investimenti facendomi aiutare da un report quasi nuovo di zecca di xtb come si andrà ad evolvere il mercato e soprattutto dove potremo investire dopo di ciò ti dico anche come si va ad evolvere il nostro portafoglio speculativo quello che stiamo creando insieme appunto sulla piattaforma xtb e qual è la quarta azienda che ho aggiunto in questo periodo deve avere solo la pazienza di attendere la fine della sigla ciao a tutti bentornati su questo canale io sono pasquale e questo risparmio il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto questo 2022 non ha disatteso ed è iniziato sia dal punto di vista finanziario che pandemico con tantissime novità alcune sono buone e altre sono un po meno buone cattivelle ma dove andiamo a parare alla fine del 2022 cerchiamo di capirlo dal punto di vista finanziario con il report che xtb ha messo a disposizione e del quale se volete anche voi approfondirlo e leggerlo vi lascio il link qui sotto in descrizione successivamente vi svelo anche come si va ad evolvere il nostro portafoglio speculativo e soprattutto qual è la quarta azienda che ho aggiunto ricordo che ho creato appunto questo portafoglio sulla piattaforma xtb e che puoi trovare il link qui sotto affiliato se vuoi iscriverti in descrizione ovviamente a te non costa niente ma a me aiuta il canale a crescere bando alle ciance andiamo a guardare il report dopo la pandemia del 2020 il 2021 è stato un anno di esuberanza sia da quanto riguarda l'economia mondiale che i mercati in generale gli stimoli massicci hanno prodotto una domanda molto forte che ha causato squilibri e pressioni sui prezzi mentre l'abbondante liquidità ha portato quotazioni degli asset a dei livelli storici però cosa possiamo aspettarci dal 2022 crescita tagnazione o anche peggio decrescita la profonda ma breve recessione del 2020 seguita da un boom alimentato da stimoli ha reso il panorama economico estremamente difficile da interpretare molto ma molto difficile da interpretare normalmente la domanda è se si tratta di un'espansione di una crescita matura o di una fase di rallentamento del ciclo il problema è che il ciclo potrebbe non funzionare più nel modo standard e quindi tutti i modelli quelli che sono intensicamente basati sulle relazioni passate potrebbero essere di scarsa utilità tuttavia possiamo almeno delineare il quadro di ingresso per eventuale delibere sul futuro tutto lo stimolo che inizialmente era volto ad attutire il corpo di tipo recessivo delle restrizioni ha generato così tanta domanda che anche senza la pandemia avremmo molto probabilmente visto qualche problema di offerta tuttavia a causa delle restrizioni di covid molte catene di approvvigionamento sono continuamente state messe alla prova e non essendo in grado di soddisfare tutta quanta la domanda rispondano con dei prezzi che sono più alti la vera domanda è cosa andrà a succedere dopo il consenso economico presuppone che una crescita economica del 2022 sia attorno al 4% nei paesi sviluppati e le aspettative di crescita del 2023 restino al di sopra del 2019 senza le pandemie allo stesso tempo però alcuni economisti sembrano credere in una natura transitoria dell'inflazione perché si aspettano che sia controllata dall'eum e in cina e che si cambi gradualmente anche negli stati uniti d'america però ci si può fare un'altra domanda una stagfazione è comunque possibile il 2022 potrebbe vedere una domanda più bassa per tre motivi particolari una inflazione più alta significa un minore reddito disponibile e una minore fiducia dei consumatori poi anche gli effetti dello stimolo governativo stanno svanendo specialmente per quanto riguarda gli stati uniti d'america poi anche i risparmi accumulati durante la pandemia vanno ad essere spesi se il calo della domanda come si presume dovesse essere significativo quando le aziende aumenteranno la loro capacità di produzione potrebbero improvvisamente trovarsi di fronte a ricavi in calo proprio quando la crescita dei salari invece andrà a salire e i tassi di interesse vedranno un ritorno alla normalizzazione quello che però potrebbe essere l'eventuale ago della bilancia sarà la politica monetaria delle banche centrali in particolare parlando del mercato più liquido del mondo quello americano la fed la politica monetaria potrebbe essere il fattore più importante per i mercati ed in effetti potremmo partire da questa se non fosse che dovrebbe dipendere anche da delle variabili economiche dico dovrebbe perché altrimenti come si potrebbero spiegare i tassi allo 0 per cento con una domanda molto forte e un basso tasso di disoccupazione e un'inflazione che ha superato il 6 per cento ma proprio perché le banche centrali hanno mantenuto il loro programma di emergenza molto più a lungo di quello che molto probabilmente era il necessario l'asfolta potrebbe anche essere un po più drammatica il massiscio intervento delle banche centrali ha avuto un enorme impatto sui prezzi degli asset in realtà attraverso tre canali principali i tassi a zero o negativi hanno costretto le famiglie a cercare delle alternative diverse per conservare i propri risparmi enormi acquisti di beni il quantity devising hanno permesso ai governi di finanziare trasferimenti eccessivi gli investitori al dettaglio avevano più soldi da spendere o investire ma la spesa era limitata da delle restrizioni in più il quantity devising ha anche portato un massiccio eccesso di liquidità costringendo le istituzioni ad accettare i rischi per sfuggire ai cosiddetti tassi sotto zero tuttavia si potrebbe dire che sia tutta una questione di liquidità il ricorso a dei massicci stimoli monetari e fiscali ha fornito un enorme sostegno a tutto il mondo del mercato azionario durante il panico che si era verificato appunto fra marzo aprile maggio del 2020 con la prima onda di pandemica gli indici hanno lanciato un rally che dura quasi sicuramente ancora oggi anche se sembra di aver subito alcune battute d'arresto di recente i principali indici di wall street vengono scambiati oltre il 100 per cento sopra i loro minimi pandemici dopo aver registrato guadagni a due cifre nel 2021 tuttavia un rally finanziato dalle banche centrali è sicuramente un qualcosa che non durerà per sempre le azioni americane non sono mai state così care come lo sono in relazione ai loro fondamentali questo significa che il mercato è sul punto di crollare punto di domanda in realtà non necessariamente però se si verifica un crash le autorità monetarie potrebbero di nuovo intervenire con una gamma limitata di strumenti a loro disposizione lo stato attuale del mercato basato sui multipli di valutazione è più simile a una bolla.com che è una vera e propria crisi finanziaria globale gli indici sembrano anche vulnerabili a causa delle loro valutazioni allungate creando un rischio di sell off nel caso in cui uno shock negativo di minimo impatto colpisca i mercati e in questo periodo parliamo tanto della crisi in ucraina cosa potrebbe fare allora la fed le elezioni dell'europa del giappone mostrano che tagliare i tassi negativo non è proprio una risposta ai problemi economici però la banca centrale potrebbe comunque iniettare liquidità almeno per aiutare a stabilizzare i mercati ma fornirebbe anche più carburante per quello che è un problema che si sta verificando in questo periodo che è l'inflazione ed è inflazione che attualmente sta spingendo la fred verso una politica più stretta e in europa invece a differenza della federalesale non ci si aspetta o almeno insomma questa è l'aspettativa che la banca centrale europea inizi a restringere rapidamente infatti i programmi di emergenza pandemica sono destinati a scadere nella prima metà del 2022 ma la guard ha avvertito che i tassi di interesse potrebbero non aumentare rapidamente così come effettivamente i mercati si aspettano d'altra parte la zona euro sta anche affrontando alti tassi di inflazione anche se non così alti come negli stati uniti d'america sono ancora molto al di sopra dell'obiettivo che la bce è sempre prefistata ciononostante un'ulteriore accelerazione della crescita dei prezzi specialmente una rapida potrebbe comunque indurre un'altra azione politica da parte della bce alcuni problemi potrebbero anche essere legati alla logistica e in particolare per il cuore pulsante economico ed industriale dell'europa la germania infatti la bundesbank non prevede assolutamente un miglioramento della situazione nei prossimi mesi vicini ma i vincoli della supply chain che dovrebbero comunque iniziare ad allentarsi entro la fine del 2022 potrebbero appunto rallentare ancora di più questa crescita infine ci si potrebbe anche chiedere cosa si può ci si può aspettare dall'oro storicamente un bene di rifugio in queste dinamiche particolari di mercato specialmente dopo un periodo di volatilità molto basta l'oro e di alti metalli preziosi infatti sono stati tra i migliori asset del 2020 mentre l'anno 2021 non è stato poi così eccitante ma il 2022 potrebbe effettivamente e certamente esserlo guardando ai prossimi cambiamenti nelle politiche di tipo monetario uno shock restrittivo potrebbe creare una significativa pressione al ribasso ma il passato ci ha mostrato anche che la materializzazione di alcuni fattori di rischio potrebbe essere anche un segnale contrarian è un'opportunità per chi invece fa il trader resta poi il nodo del petrolio il petrolio è la merce molto probabilmente la più politica del mondo e nulla è cambiato nel 2021 ci sono stati alcuni tentativi di affrontare i prezzi troppo alti tra cui il rilascio di riserve strategiche ma il maggior impatto sul calo dei prezzi alla fine del 2021 era stato omicron la nuova variante del coronavirus di cui si è parlato tanto in questo caso c'erano forti timori che sarebbe stata una riduzione della domanda simile a quella che si era verificata al vero inizio della pandemia proprio alla parte iniziale perché la nuova variante potrebbe essere più pericolosa magari di tutte le altre ed essere resistente ai vaccini alla fine fortunatamente per tutti la situazione non era poi così negativa le previsioni della domanda e dell'offerta per il 2022 indicano che l'intero anno dovrebbe essere considerato in termini di eccesso di offerta questo dovrebbe teoricamente in generale una pressione al ribasso sui prezzi ma in tutto questo discorso le crypto beh anche le crypto anche questi asset ormai sono parte integrante di molti investitori istituzionali e secondo me sono da tenere in considerazione alcuni investitori hanno iniziato a chiamare bitcoin l'oro digitale a causa della sua quantità limitata e dell'alta valutazione che ha raggiunto mentre il 2021 è stato un anno bellissimo e fortissimo per le criptovalute ha anche dimostrato che gli investitori in asset digitali condividono le stesse preoccupazioni dei mercati azionari molto probabilmente perché ci sono molti istituzionali al momento in questo asset durante i periodi di incertezza le criptovalute possono perdere valori attraverso un esodo accelerato degli investitori dagli investimenti che sono per loro più rischiosi ma la loro adozione sta accelerando di molti campi lo fanno da padrone per tutta la tecnologia che viene legata appunto ai token salvadore è diventato il primo paese al mondo nel 2021 a iniziare ad accettare pagamenti in bitcoin e ha iniziato a comprare la criptovaluta in obbligazione a 10 anni tra le altre cose per esempio anche gli stipendi dei sindaci di new york di maieni sono pagati in criptovalute una cosa che fino a poco tempo fa ma non dico anni anche insomma mesi era impensabile in tutto ciò noi però continuiamo con il nostro portafoglio speculativo perché ci piace farci male dopo tanta teoria andiamo adesso al computer a vedere cosa ho aggiunto che la nuova azienda che ha aggiunto al portafoglio e come procede poi ritorniamo qui con le conclusioni allora partiamo dal presupposto che questo portafoglio è di tipo speculativo però ovviamente con uno speculo presume prevede di fare profitto come si può vedere da questa grafica da questa pagina di xtb sulla piattaforma sulla quale stiamo creando il nostro portafoglio beh non va proprio tanto bene nel senso che la nostra bene amata virgin galactic di massimo cirignotta mister billion ciao massimo sta facendo un meno 39 per cento lemonade un meno 26 celsius holdings una delle mie aziende diciamo favorite da quelle growth se io non investissi in dividendi sarebbe una di quelle che mi piacerebbe avere in portafoglio sta o meno quasi 16 per cento e la nuova azienda quella che abbiamo appena aggiunto è la ex facebook oggi chiamata denominata meta platform ai 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 e io invece ho voluto inserirla a vostra disconoscenza se così si può dire se si può usare questo termine perché è calata tantissimo in quest'ultimo periodo a causa di tantissime diciamo dinamiche e secondo me visto che stiamo cercando di creare un portafoglio speculativo secondo me ci andava molto ma molto a pennello perché si è sottovalutato un po pur essendo a mio parere ancora molto cara però il calo che ha avuto ha dato diciamo questi frutti nella mia idea c'era netflix però a mio parere netflix ha un limite molto importante che meta platform non ha ma che è quello di avere un limite che sono le persone che possono effettivamente fare l'abbonamento mentre meta platform ha una tipologia di prodotto che molto probabilmente molte persone pensano si fermi a facebook e instagram ma i social sono solo una parte meta platform ha creato tutto un business o vuole creare un business sul metaverso che vada a progredire magari nei prossimi 10 15 anni e potrebbe essere la svolta dell'azienda ma ha anche tutta una serie di altre cose connesse al metaverso come l'oculus e tutto quello che è connesso alla realtà virtuale per cui l'azienda che ho inserito su questo portafoglio xtb è secondo me meta platform facebook ci sta benissimo e non so ditemi voi cosa ne pensate di questa azienda appena inserita vi ricordo che il portafoglio io lo sto creando con la versione investing ma sono aperto ovviamente ai vostri suggerimenti nel caso voi voleste ad esempio aggiungere anche delle posizioni cft oppure vorreste andare ad aumentare le una delle quattro posizioni che sono già inserite faremo un investimento al mese come ben sapete per cui magari dal mese prossimo possiamo anche mediare uno delle quattro posizioni possiamo aggiungere un'altra azienda questa l'ho scelta io la prossima la scegliete voi per cui nel sondaggio che andrò a fare su telegram vi andrò a chiedere se volete aggiungere una di queste quattro aziende per cui andare a incrementare una di queste quattro posizioni e poi vi vado a proporre altre quattro aziende nuove speculative o comunque che hanno prospettive di crescita future molto più speculative per andare a vedere diciamo qual è la scelta che fate voi questo portafoglio teoricamente dovrebbe fare un 50% anno per battere diciamo non solo i vari indici ma comunque andare ad abbracciare la definizione di speculativo che quello che voglio e a quanto pare stiamo facendo un meno 50 quasi ma dalla parte inversa per cui dobbiamo cercare di migliorare mi affido a voi per la vostra conoscenza delle aziende speculativo delle aziende a forte crescita fortemente growth che non sono il mio pane quotidiano due le ho scelte io poi ne avete scelto una voi adesso ne ho scelto una io adesso ne faccio scegliere un'altra voi spero che tra l'altro questa piattaforma sia di vostro interesse xtb la vedo molto ben in stradata su quello che il trading ma anche l'investimento a lungo termine perché mi piace molto la sua grafica ve l'ho detto anche quando ho cominciato a creare questo portafoglio mi piace come viene gestito un po tutto quello che è l'immissione degli ordini la gestione dei grafici la gestione delle informazioni fondamentali ve l'ho fatto vedere in video precedenti non mi sto qui a ripetere se volete provare la piattaforma in demo trovate il link qui sotto in descrizione che è affiliato e basta marchette per cui dopo questo video dopo che avete visto il report che xtb ci ha fornito per valutare quelle che sono anche le prospettive di investimento per il 2022 quali sono le cose che ci si può aspettare anche se non le sicuro a parte le tasse e la morte e io diciamo che sulla morte ho qualche dubbio fatemi sapere cosa ne pensate vi andrò a lasciare il sondaggio telegram a breve dopo subito dopo l'uscita di questo video e speriamo di fare questo beniamato più 50 per cento adesso basta ritorniamo lì da me in vis a vis ci vediamo faccia a faccia andiamo a chiudere questo video per gli ultimi saluti bene mi faceva molto piacere portare alla vostra conoscenza questo report ovviamente essendo scritto da esperti non ho paraprasato ma ho solo riportato le parole così come sono scritte su report prendendo solo degli spunti per tutto il report che ritenevo i più salienti perché altrimenti sarebbe stato un video di 40 minuti però se volete leggerlo completamente come dicevo prima vi lascio il link qui sotto in descrizione di xtb che ci ha fornito gratuitamente questo report nel caso vorreste iscrivervi alla piattaforma ma anche scaricare il report che è completamente gratuito per andare a leggerlo per conto vostro poi se il contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo come sempre la cortesia di farmelo capire con un bel pollicione in su perché così lo capisce anche l'algoritmo di youtube una volta ogni tanto e poi se sei nuovo sul canale e se non vuoi perderti nessun nuovo contenuto successivo la cosa che ti chiedo di fare è di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così nessun nuovo contenuto pubblicato sarà mancato da parte tua bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao